Allora, questa è la cava della cementeria di Merone, inusata da anni, è terminata, diciamo, terminata la concessione, è stata fermata. Qui si vede bene lo scavo della montagna, eccolo qua. Guardate come è stata scavata bene la montagna, dalla cementeria di Merone, per anni. Decenni. Ecco qua, quello che rimane. E una volta all'anno ci fanno un... ci facevano adesso col covid non si può. Portavano su e facevano un concerto qui. Il famoso concerto in cava. Adesso è irritata e facciamo un video in cava torta. In cava torta. Megli è in meditazione, eccolo là, che mi sta aspettando. Adesso arrivo. Questa è la famosa rete delle reti. Siamo in rete. Quello è l'ombrello, che se no me lo dimentico lì. Oggi che l'ho portato, il cielo è clemente. Eccolo qua. Ok. Grazie.